ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un'altra puntata dedicata ai vostri stupendi orologi eccoci qua come spesso accade con un video dedicato ai vostri video ai vostri orologi alle vostre collezioni ormai lo sapete è una rubrica che va tanto per la maggiore e che quindi non ha bisogno di presentazioni se non solamente essere guardata come partecipare lo sapete basta inviare un video a me caricate il video su wetransfer.com poi mi inviate il link e io lo scarico ora voi dite perché sempre wetransfer.com ma ti dai soldi questa wetransfer no perché è quella che mi torna meglio a me quindi decido io quale nel senso che ogni volta che poi mi arriva un email automatico ho fatto dei filtri sul mio client di posta elettronica che mi vanno a finire tutti nella stessa cartella e poi quando ci clicco sopra scarica istantaneamente quando mi ripassate su dropbox o su altri sistemi tribolo e a volte accadeva in passato che interrompevo lo scaricamento perché il download è troppo tempo, troppo complicato, problemi, si interrompe quindi è quello prima di guardare il video vi faccio vedere l'orologio del giorno che ancora una volta però c'è una piccola novità e ancora una volta è il mio bellissimo Omega Speedmaster il Moonwatch 42 mm di diametro cassa quadrante nero opaco cinturino in pelle di coccodrillo Nabuc anche questo qua opaco e quindi fa panda fa panda il cinturino me l'ha fatto un amico John Kustraps ormai lo sapete però io ho fatto una modifica estemporanea artigianale anche se economica ossia siccome la fibbia e l'ardiglione è il classico no? la chiusura classica del cinturino in pelle comportano il fatto che l'orologio possa cadere comportano il fatto che io lo tolgo spesso l'orologio lo tolgo magari mi lavo le mani lavo i piatti me le rimetto quindi la fibbia e l'ardiglione sono un po' scomodi e oltretutto a forza di utilizzarlo di metterlo e toglierlo si viene a piegare a parte con i buchi del cinturino si viene a piegare perché si fa sempre si sforza no? quindi cosa ho fatto? ho ordinato una simpatica deployant a farfalla sul marketplace quelle proprio cinesate cinesate e ce l'ho messa è arrivata ci sta benissimo mi ha risolto il problema perché guardate qua basta fare così cibidumbi si apre ed eccolo qua non si non si non può cadere non ha l'orologio ti rimane al polso così e poi per chiuderlo anche con una mano semplicemente fai tipitimpi e tipitampi forse tipitampi eccolo qua così metti dentro e è a posto sei a posto bene mi ha svoltato la giornata questa cosa e questo lascia anche intendere quanto io abbia intenzione di indossare lo speedmaster col cinturino ormai proprio mi si è voltata la giornata e lo utilizzo col cinturino perché mi piace di più basta basta con discorsi inutili passiamo al primo video e fuoco fuoco vai ciao davide e ben ritrovato ciao e ben ritrovati anche a tutti gli amici dalla comune te comune te grandi grandi ok davide iniziamo tac questo è il mio ultimo acquisto è un christopher ward ah bello ho fatto vedere qualche video tuo indietro ma non mi sembra non ho trovato recensioni magari se mi no non hai trovato recensioni perché non ne ho la possibilità non perché non voglio si tratta di orologi fatti bene di un brand non è nemmeno un micro brand perché è proprietario anche di stabilimenti in svizzera no della sinergia orologia orologia dove fanno i calibri in house quindi è veramente un brand strutturato non ne ho mai avuto la possibilità mi sembra una volta ho avuto il contatto con un loro rappresentante poi non è andato a buon fine è morta lì potrei prendere un prestito da qualcuno ma comunque per quello che so io sono ottimi orologi fatti veramente bene quindi c'è poco da sbagliarsi se mi indichi quanti anni fa sempre se l'hai recensito l'hai fatto che me lo vado a vedere no no è un ottimo orologio ho visto dei tutorial in giro ho visto dei video su youtube mi è piaciuto è un Christopher Ward c60 tridente pro 300 tridance movimento automatico serenita è un kosh ah no pardon kosh beh kosh non è tanto male comunque ok e niente mi è piaciuto l'ho preso simpatico come dite voi c'ha il cinturino credo che questo cinturino si chiami tropic può essere vabbè comunque niente ha le lancette tre lancette c'ha c'è proprio quella lancette dei secondi ok passiamo all'ultimo figata anche questo il super lupo di mare della zodiac della dici te zodiac ok zodiac è un ottimo elemento anche questo qua è praticamente il super sea wolf sea wolf 53 skin black ruba black ruba dicevo zodiac pensa guarda la combinazione proprio qualche giorno dopo che l'ho comprato mi sono imbattuto su sky beh nel film dove tu appunto ne parlavi in una tua recensione che ho visto bravo bravissimo i tuoi video sono perfetti mi sto andando a cercare tutti i video bravo e rivedere tutti i video degli anni passati questo è l'ultimo ecco c'è il consiglio allora praticamente questo video dagli anni 80 girano è un come puoi vedere vostro vostro c17 dietro praticamente all'orologio c'è come si chiama sai che non ho ben ben adesso in mente come si chiama comunque il gelato lì la piazza rossa come si chiama credo che sia una chiesa il cremlino il cremlino lì da quelle parti russia comunque l'ho comprato negli anni 80 dai polacchi dei polacchi che credo lì con la storia di solidarno se venivano via e a poche lire c'era ancora la lira avrò pagato 10-15 mila lire e niente perdono e volevo chiederti appunto se pensi che ne vale la pena metterlo a posto l'altra volta te l'ho chiesto dopo se una volta mi hai cazziato e allora adesso te lo dico prima secondo te conviene metterlo a posto considera che praticamente l'ho tenuto lì dopo che sei guastato fermo fino adesso tu considera 87-87 credo di averlo comprato siamo nel 2024 e vai dimmi tac cosa faccio lo sistemo lo tengo nel cassetto ne vale la pena visto che costano tra le 170 200 300 300 però mi piace per il fondello e anche per appunto l'aereo qua allora qua l'aereo qua sembra un mig 29 a me mi sembra però va bene non vuole sbagliare vale la pena vale la pena sistemarlo non lo so quello lo devi decidere te quanto a livello affettivo perché a livello economico ne compri un altro compri un altro un altro vostro canfibia comandischi quello che ti pare a te con poco tra virgolette dovresti trovare un orologiaio di fiducia di quelli di paese di quelli insomma senti a troppe pretese che lo apri da nocchiate e ti dice si con 50 euro te lo sistemo e te te lo fai sistemare e c'hai un ricordo se l'hai preso negli anni 80 insomma cioè ha sempre un senso no l'hai preso te 40 anni fa più di 40 anni fa è anche giusto che si è fermato io se fossi stato lui mi sarei fermato prima perché la meccanica ti dà una mano è brava è gentile ma non puoi sfruttarla 44 anni senza fare nemmeno una revisione mi fermerei anch'io e poi se vai da uno ti chiede 150 200 euro gli dici lo tieni così per ricordo nella bacheca dove mi ricordo agli anni con la playstation 1 o 2 c'era un videogioco dove guidavo gli aerei e questo qui era uno tra i miei preferiti grazie mille della tua attenzione grazie a te ok mi auguro di riuscirti a vedere presto un giorno magari lì dalle tue parti e berci qualcosa insieme parlare un po' di orologi cosco perdon cosco ciao grazie saluti a tutti saluti a tutti dimenticavo è love 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 the pussy e the rock the vibe grazie grazie la tua recensione la più ultima e della copertina che mi hai messo nel tuo video quando hai pubblicato grazie grazie ciao a tutti l'ultima cosa ho visto a Milano questo c'ho ancora il biglietto a Milano ho visto fammi sapere l'orologio te l'ho fatto sapere ciao tac tac sto qua fuori di testa ragazzi sto qua veramente fuori di testa tac il milanese è proprio imbruttito è proprio imbruttito imbruttito clash of the titans era quella tournée che fecero nel 90 nel 90 Megadeth Slayer Testament e Suicidal Tendencies non ci sono andato a vederlo mi ricordo che volevo poi alla fine non ci sono andato nel 90 ho visto gli Aeromaiden con gli Antrax sempre in quel periodo lì autunno del 90 tanta roba poi era la tournée dei dischi quindi Rust in Peace e Season in the Abyss tanta roba vabbè sul rossofilo lì te l'ho detto com'è com'è il discorso poi gli altri orologi vabbè questo qua è un video più che per guardare gli orologi per sentire te che spari le no vabbè dai aspettiamo il prossimo video amico milanese è bruttito bravo ciao Davide sono Antonio dalla Svizzera più precisamente dal Ticino Ticino una piccola nota per gli interessati agli orologi il Ticino ha il 40% della produzione di orologi e parte di essi grazie al gruppo Svoc che ha diverse fabbriche sul territorio ticinese abbiamo anche la fabbrica della Quervo i Sobrinos che tra l'altro è situata in una bellissima villa dell'ottocento vale la pena andare a visitare la fabbrica solo solo per la villa bene andiamo avanti con le cose serie gli orologi vi mostro il mio primo orologio automatico che ho acquistato mi piace il mio 2010 un PRS 516 con calibro 28-36-2 bravo andando avanti vi mostro un quarzo Tagoyer Formula 1 del 2004 sì simpatico ora andiamo in Giappone con un Seiko Prospex sempre un quarzone però a carica solare speed timer il secondo giapponese anche un Seiko Prospex SPB 097 J1 questo mi ha colpito il quadrante blu e la ghiera rosso-arancione che arancione c'è da dire che col sole è veramente molto molto bello secco sono belli secco sono belli tornando in Svizzera un altro un altro quarzone tiso si start da 45 mm un orologio gigante cronografo questo dovrà rimanere in collezione perché è stato un regalo dalla mia compagna non è bello bello eh altro tiso PRX con il quadrante ghiaccio questo non ha una grandissima lettura ecco se fosse stato blu verde o nero si sarebbe letto molto di più eh vabbè peccato è bello a me piace prossimo orologio un E-DOX C01 C01 questo ha la particolarità che ha la ghiera che è completamente in ceramica e ha le anze molto molto corte si ghiera è monoblocco prossimo orologio eccolo il DOX sub 200 acqua marine a me purtroppo piace il blu quindi è così bello il DOX 200 il prossimo orologio che dovrebbe essere sempre in collezione e non è un 6x5 ma un Hamilton khaki felt da 38 mm questo l'ho acquistato col bracciale e poi mi diverto di tanto in tanto cambiarlo bracciale o cintorino questo qua chiaramente è il cintorino originale bravo bravo gli aru prossimo Hamilton anche un khaki felt scuba da 43 mm questa è la cosa interessante che non ha lo scatto data non avendo la data quindi Hamilton con l'H10 ha lavorato bene c'è anche da dire che essendo un quadrante bianco ha comunque un'ottima lettura veramente un'ottima lettura poi quando si illumina quando si illumina il super luminova di notte così è veramente veramente molto molto leggibile comunque non è un khaki field è un khaki nevi un prossimo orologio Longin Spirit eccolo lì il top questa volta un quadrante verde verde non si si vede da 40 mm un bellissimo orologio veramente un gran bel orologio sempre detto io il prossimo orologio è una una marca che non avevo mai sentito e cos'è? un Milus questo ha la storia un po' particolare la Milus nasce nel 1919 a Neuchatel Neuchatel tra il 2003 e il 2008 viene acquistata dai cinesi da due grosse aziende cinesi e poi l'han lasciata dormiente fino a qualche anno fa nel 2016 o 2018 se non erro questa azienda è stata proposta al signor Luc Tissot che è il pronipote del più famoso Tissot che ha poi fondato la fabbrica Tissot a Aleloc e lui ha ripreso in mano la fabbrica e ha deciso di costruire gli orologi un po' retro quelli che si facevano una volta questo qua è uno di quei modelli preso da un modello degli anni 60 questo qua ai tempi era un super compressor chiaramente non è più un super compressor questo qua ma solo le sembianze con le due corone eccetera eccetera sì ma sta storia qua che le sembianze di un super compressor corrispondono alle due corone cioè si può fare anche un super compressor senza due corone con una corona anche senza corona con quattro corone è la tecnologia della cassa e del vetro che definisce super compressor o meno non le due corone ai lati un bel orologio oltretutto questo monta un calibro 28 92 2 della età addirittura buono un altro orologio che non devo chiaramente spiegare nulla perché tutto molto bene visto che hai avuto e grazie a te che ho acquistato questo orologio guardando le tue recensioni un rado golden horse golden horse horse prossimo orologio un altro rado di Astar original questo è un orologio molto particolare ah certo non facile da portare nel senso che è pesante particolare vistoso eccetera eccetera è abbastanza vistoso nonostante non abbia delle parti dorate e vi dicendo io credo che questo sia l'orologio che simboleggia la rado la rado è partita da questo orologio da qua via poi a costruire quello che sono i suoi cavalli di battaglia in ceramica metallo duro eccetera eccetera sì praticamente noi siamo abituati a commentare positivamente il rado golden horse di prima il capitan cook che è un classico diver dalle sembianze diver oppure non mi viene in mente altri sì tutti gli hyper chrome ma in realtà rado la la mission di rado è quella di costruire orologi in materiali particolari in ceramica con delle forme particolari con un design unico è lì che bisogna andare a cercare rado e deve piacere anche questo orologio qua deve piacere non gli si può non riconoscere che sia particolarmente originale però deve piacere si deve aver voglia di indossarlo altro discorso per i design ruffiani come può essere il golden horse o il capitan cook che sono orologi che riprendono le loro linee del passato ma sono un po' ruffiani no eh particolarità qui del vetro che è sfaccettato sfaccettato e ce l'hai fatta bravo il prossimo orologio un oris un'altra maison svizzera questo è un big round pro pilot da 45 mm 45 un'edizione limitata della race e il reno ha di particolare il fondello e la lancetta dei secondi che è rossa bianca e rossa il fondello è gravato in maniera veramente veramente eccelsa bella male che è chiuso un gran bel fondello dal mio punto di vista far vedere anche la class che hanno ripreso quello che è la chiusura della cintura degli aerei sì sit back c'è da dire che oris lavora molto molto ma molto bene ho avuto l'occasione di visitare questa fabbrica ed è stata veramente una grande emozione bravo l'ultimo orologio cos'è cos'è un altro oris un aquis da 41,5 mm questo monta un sellite sv200 anche questo un'edizione limitata questa è è l'edizione del re scimmia un fumetto un cartone animato cinese e come dicevo prima anche qua il fondello veramente quando oris fa i fondelli chiusi li fa veramente seriamente e li fa veramente molto molto belli quasi più bello il fondello che che l'orologio ecco questa qua è tutta la mia collezione prossimamente vi posso già dire che arriverà un longin spirit zulu time da 39 mi dovrebbe arrivare a giorni complimenti grazie mille per l'attenzione e vi auguro una buona serata love buona serata a te love pensavo che nel frattempo sarà già arrivato perché sarà meno di un mese fa come minimo questo video sapete che c'è un certo ritardo e mentre guardavo gli ultimi due oris pensavo la sua frase che ha detto è quasi più bello il fondello che l'orologio un gran complimento per oris bravo gli ha fatto un gran complimento però è veramente il concetto che il fondello può essere un ulteriore elemento di apprezzamento per l'orologio ci si può sbizzarire a fare sul fondello quello che si vuole ed è un peccato ormai ormai è questa la mia filosofia anche se non disdegno che ci siano i fondelli trasparenti a questi punti poi chiaramente quando mi vedo un glassuto original con quel bel calibro lì che me lo fanno vedere o anche questo omega qua che c'è il calibro l'ho scelto io quel calibro a vista figuriamoci e non li disdegno cioè non è un un break it dealer un un breaking dealer come si dice un breaking dealer cioè qualcosa che mi impedisce l'acquisto il fondello trasparente però quando vedo quelli chiusi decorati fatti brigati ti viene voglia di dire ma fateli tutti così capito va bene dai gli orologi tutti belli tutti decenti tutti degni attendiamo che ti prendi lo Zulu Time dell'arogino ho visto c'è lo spirit da 40 e lo Zulu Time da 39 hai detto da quanto lo prendi lo prenderai da 39 presumo ma sta bene anche da 42 lui prossimo video ciao Davide ciao a tutti sono Daniele da Trieste e vi presento la mia collezione cos'è quello lì? il primo orologio che vi mostro è questo è un sector ADV 2005 acquistato nel 93 me l'ero fatto regalare dai miei genitori per i miei 18 anni perché io sono sempre stato appassionato di arambicata di alpinismo bravo questo era un sector che veniva pubblicizzato da Manolo un grandissimo free climber alpinista arambicatore italiano che ancora oggi è un grande ancora vivo e io volevo essere come lui lui arrampicava con questo orologio senza corda su pareti vertiginose e lo pagavano ho cercato di emularlo bravo infatti ho spaccato ben due volte il vetro ho perso un pulsante insomma è vissuto questo orologio adesso riposa qua in pace devo cambiargli la batteria è fermo da un bel po' a batteria? ho dato molte soddisfazioni all'epoca certo lo usavo veramente veramente molto molte soddisfazioni poi per tanti anni cos'è quello lì? non ho più indossato orologi o indossavo orologi al quarzo casio questo è uno degli ultimi che distruggevo regolarmente proprio arrampicando perché io sono appunto appassionato ed arrampicata sono istruttore di alpinismo nel tempo libero bravo e anche membro del soccorso alpino qua a Trieste quindi uso spesso questi orologi qualche swatch ogni tanto questo è l'ultimo che mi è rimasto vivo bravo e adesso invece uso per questi sport degli orologi che non sono orologi sono dei computer a polso certo e che hanno anche l'ora così ma insomma fanno tutt'altro sono utili ma sono dei tool watch sono dei computer un microonde da polso però nel frattempo ho portato avanti la mia passione e di recente e di recente insomma dieci anni fa ho comprato questo primo orologio automatico basico un Seiko 5 che mi ha fatto scattare un po' la molla di questi orologi meccanici automatici e questo mi ha accompagnato in vari viaggi un orologio che mi piace molto nelle sue essenzialità nella sua però dieci anni di orologio a vederlo così non sembra nemmeno rovinatissimo insomma ecco forse un graffietto la sua ore dieci nel vetro c'è nel vetro minerale però cavoli dieci anni gli ha retti bene questo Seiko 5 bravo Seiko 5 semplicità tant'è che poi sono passato a sempre un altro Seiko 5 ha graffiato anche questo questo qui un po' più elegantino un po' più così curato chic questo è sempre molto molto economico certo molto molto basilare ma di soddisfazione ecco questo per dire l'orologio che ho indossato quando mi sono sposato insomma bravo poi ho provato l'ebrezza di prendere un Kinetic un Seiko con questo quadrante particolare non so se si riesce a vedere si vede si vede è poco leggibile in certe situazioni ma mi piaceva insomma è un po' grande per il mio polso ma questo è un 41 42 millimetri e un polso da 17 e mezzo però un orologio che non metto spessissimo ma lo indosso con piacere con piacere bravo poi ho ceduto alla tentazione di un Ciofeca e ho comprato questo ADS Dive che scimmiotta il capitano Williard della Seiko ma perché non vi comprate anzi il capitano Williard della Seiko piuttosto che questo non è che sia irraggiungibile che costa 30 mila euro e quindi dici no allora mi compro la copia rimarchiata che sarebbe sbagliato uguale anzi un orologio come il Seiko 5 di prima con la sua personalità no pur essendo raggiungibile non ti metti i soldi da parte e ti compri anzi l'ADS Dive che dietro ci sono quelle personacce brutte malvagie che costruiscono orologi copia per inondare il mondo e poi secondo me basta che ci cambiano un pochino sono le stesse fabbriche che fanno i falsi ci toglie l'ADS Dive ci metti sopra il simbolo Seiko e vende il falso però ce l'ho da tre anni funziona bene mi piace per carità è finto ma funziona è finto poi sono passato a un Citizen Eagle 7 a me piacciono molto i vintage come avrai capito ha un quadrante particolare perché è dorato con tutta una serie di lavorazioni piccoline interessanti a righe a settori settori bello insomma devo portarlo a sistemare perché la data non funziona bene non riesco a regolarla in autonomia si funziona solo quando cambio l'ora ma devo portarlo a sistemare sarà una stupida data ti mostro anche un orologio che ho regalato a mia moglie lei è una praticona non ha tempo di star lì dietro a regolare gli orologi quindi gli ho preso un Citizen Eco Drive questo è un ambiluna con un quadrante madreperla piccolino strano eh un bel bracciale sì così particolare spigoloso ma bello lei è contenta perché non deve pensare a niente questo va avanti per mesi gli cambio io l'ora solare l'ora legale ah beh lei quando le serve è sempre pronta e poi sono passato a un orologio sempre vintage svizzero questo è un orologio Tel Tel una marca che ho scoperto essere un un brand sotto cui si nascondevano vari piccoli produttori svizzeri negli anni 30 40 50 poi è sparito con la crisi del quarzo è un bel orologio che ha questo quadrante particolare mi è costato poco mi è costato molto di più sistemarlo e prendere un cinturino adeguato però mi piace lo indosso appena posso meno male anche la forma così sì sì particolare dai rettangolare ricorda insomma gli anni che furono gli anni 70 yes molto recente questo acquisto invece l'ultimo è questo nivada bello super antarctic super antarctic bello mi piace moltissimo un 38 millimetri un movimento soprod mi pare appena preso con questo medaglione che ricorda l'impresa per la quale era stato creato originariamente l'orologio negli anni 50 mentre degli anni 50 era la spedizione americana Deep Freeze One e l'anni vada aveva fornito gli scienziati e gli avventurieri di questo di questo orologio di cui questa è la riedizione storica e infine come sorpresa finale quella scatolina che rimane sottofondo è un regalo di mia mamma per la laurea è un cipollotto un cipollotto tasca un bellissimo omega che non so se si riesce a vedere ma ha un quadrante molto molto particolare oro 14 caratti 14 con il movimento a vista vediamo se riesco ad aprirlo guarda lì bellino qua riporta anche indicazione è molto lucicoso non si riesce a vedere forse in camera eccolo qua un bellissimo movimento molto molto particolare molto bello non lo porto mai perché non saprei proprio come portarlo però un ricordo vi saluto vi ringrazio tanti auguri di buone feste buon anno nuovo ciao ciao buone feste buon anno nuovo questa mi ci voleva anche questa va bene e niente siamo contenti che insomma ci ha fatto vedere tutti i begli orologi ma anche il tasca finale oro 14 caratti omega oro 14 caratti strano vabbè è bello ben curato anche tenuto bene non sai come portarlo come lo porti nella tasca con una catenella e lo porti se vuoi fare il figo vai a un matrimonio che ore sono anche se non serve che ore sono guardi per farti vedere che c'è l'orologio d'oro da tasca poi per il resto mi sembra tutti belli orologi adesso non ricordo più nemmeno cosa c'era sì quei sectoraci quei due 6.5 capitano Villard della Disdive da dimenticare completamente e l'ultimo è il nivadino lì che ci hai fatto vedere bello da 38 mm con calibro sopro e anche lui con il fondello come il discorso di prima il fondello decorato per ricordare la missione ecco qua un altro esempio di come dovrebbero essere gli orologi con i fondelli decorati una sorta di medaglione commemorativo che c'è dietro messo lì ci piacciono i fondelli i fondelli chiusi ci piacciono prossimo video ciao Davide sono Alessandro da Milano Alessandro in verità vivo a Dublino Dublino e mi sono portato giù per le feste orologiche che ho a Dublino così posso fare il video con quelli che stanno qui a Milano a casa dei miei bravo a casa dei tuoi Dublino le feste siamo ancora alle feste ragazzi non so cosa dirvi ci sono una marea di video qua vediamo che ci mostra lì il Bob Dylan a me non mi è mai piaciuto Lucio Battisti a me non mi è mai piaciuto e quell'altro di qua non so chi è ma tanto non mi è mai piaciuto nemmeno lui ah ah c'è poco da fare se non c'è la chitarra distorta e la doppia gran cassa a me non mi garba la musica capito deve essere un pochino incisiva un pochino punch in the thief qua se no questi cuori mi elenzi sono buoni tutti mi sono appassionato di orologi diciamo nell'ultimo anno e vabbè da giovane perché ho 42 anni ho avuto vari casio e soprattutto swatch adesso cercavo ma purtroppo non trovo niente e diciamo che poi il primo orologio serio è stato quello della laurea che ho tenuto per 20 anni bravo che è questo oh carino top da 34 mm certo ho fatto revisionare da Osman a Roma scusami l'hai fatto revisionare ma hai fatto revisionare solo la parte meccanica perché a vedere la lunetta il bracciale e le anse sono veramente graffiati e rovinati cioè la parte la parte esterna non hai fatto fare niente e diciamo che un anno fa mi è partita la scimmia degli orologi e la prima cosa che mi sono reso conto è che questo sul mio polso da 17 e mezzo è un pochino piccolo quindi 34 l'ho lasciato a mia madre che penso che invece sia top per una donna da 34 ovviamente l'ha messo per un paio di mesi poi ha scoperto che l'automatico va gestito e non è un quarzone e quindi l'ha messo in un cassetto e lo metto ogni tanto vedi lì io invece mi sono preso come primo onologio della scimmia questo che sul tuo canale si è già visto una volta ma era con il fondo blu questo invece è col fondo nero Baltic Baltic acquascaff molto bello come ha fatto già vedere un altro amico del canale la bombatura è particolarmente vintage e a me piace molto soprattutto con questo cinturino blu da contrasto col nero è blu davvero un bello orologio un tropic blu poi in verità io sono andato subito a comprarmi il mio grail watch cosa e dopo averlo comprato non è più grail ovviamente ma soprattutto mi sono gonfia e l'ho lasciato a mio padre perché siccome la mamma aveva il date io gli ho dato questo quindi diciamo che spero di riaverlo il più tardi possibile questo è il mark 1 da 39 mm si si dice tanto che insomma il t-rex ovviamente quasi nota però neanche tanto perché vedi che a ore 6 si mimetizza con l'oro e quindi anche lì è suo perché io credo che questo poi tra 20 anni sarà il più vintage del tuo però si vedrà a me piace molto soprattutto perché si ma non è mica una gara che questo qua sarà più vintage del tuo cosa ne frega a me se è un orologio più vintage io ho un orologio mi piace quello l'orologio lì lo porto avanti e quando avrà 40 anni l'orologio sarà vintage non è che è più vintage meno vintage è un vintage 40 anni vuol dire che il chromalight magari non non vira non cambia ho capito ma la tecnologia moderna porta ad avere l'orologio che in futuro avranno meno cambiamenti estetici rispetto a quelli del passato viene in mente la ghiera in ceramica poi magari non lo sappiamo perché non esiste uno storico così lungo per poter determinare se la ceramica in 40 anni potrebbe succedergli qualcosa potrebbe potrebbe anche creparsi non lo sappiamo non lo so non esiste uno storico come lo stesso per il materiale luminescente sì è inesauribile bla 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 cosa succederà fra 40 anni e 50 nessuno lo sa perché non è stato ancora testato il periodo va bene comunque il tuo sarà più vintage del mio hai vinto te te l'ho vinto bravo i numeri in oro bianco lo rendono leggermente più elegante rispetto a quelli con super luminova vabbè mio padre croma light con la corona non è un grande esperto adesso gliela metto a posto poi mi sono dimenticato che mi aveva si regalato un paio d'anni dopo la laurea un quarzone che tra l'altro adesso devo cambiare la batteria che è questo scelta un questo lorenz qui ci ho cambiato il cinturino un paio di volte niente di che l'ho usato un po' però chiaramente il Rolex lo preferivo e lo tengo ogni tanto lo uso comunque abbastanza elegante e fa il suo fa il suo dai io invece siccome dovevo superire al lutto dell'abbandono del dell'explorer mi sono preso il classicone che è questo Tudor Black Bay 158 penso che su questo si sia gettato tutto qui volevo soltanto aggiungere che come ovviamente si può notare c'è questo cinturino che è un Vanguard e devo dire che è un gran bel cinturino come puoi vedere proprio a filo con le anze e quindi insomma veste molto bene secondo me lo nobilita molto e questo nero su nero lo preferisco al bracciale che ogni tanto ovviamente metto ma secondo me così è la morte sua più sportivo più acquatico dai e poi per ultimo mi sono preso anche lì per fare qualcosa di diverso il mio primo dress watch e altro Baltic è questo Baltic MR01 e qui diciamo che la particolarità è il calibro perché monta un un calibro con micro rotore cinese e vabbè niente niente cinese per quello che costa 600 euro direi che con i breghe applicati e questo fonden salmone rovinato anche questo particolarmente ben riuscito ma non sono io il primo a dirlo lo metto ogni tanto e sono contento adesso pensavo di prendere un nuovo orologio che ti chiedevo un consiglio tra il il polaris di jelsi o il longin quello che hai tu sono molto simili adesso non mi viene in mente il nome del longin tu cosa dici meglio il longin per quel prezzo o prendermi il polaris ciao spero di rimandarti qualche nuovo video nei prossimi mesi anni complimenti per il canale un saluto da milano un saluto da milano siamo un po' lentino nel parlare anche nel trovare i termini nell'esprimere un concetto veramente il mio cervello si stava addormentando tra una parola e l'altra non riesco il polaris jeje le cutre polaris è il diver di casa polaris con due corone ok esiste una versione da 42 da 43 da 41 a differenza della data quindi anche il calibro mi sembra e quello come il mio sarà il longin legend diver da 39 no non è che ci vuole con due corone anche lui ora tra i due quale prendere io veramente non capisco uno come possa fare una domanda del genere lo capisco nel senso io ti direi il polaris no perché jeje le cutre è in qualsiasi in qualsiasi campo in qualsiasi settore è migliore di login fa i cabri veramente in house ma da decenni ne fa una marea qualità ok prezzo maggiore prezzo maggiore detto questo io non lo prenderei il polaris io l'ho adocchiato su crono 24 per molti molti mesi guardavo cercavo di autoconvingermi che fosse un orologio per me no quando uno vuole un jeje le cutre il più sportivo che c'è di casa jeje le cutre è il polaris fai un po' vedere no è anonimo per me per me è anonimo non è che lo devo prendere solamente perché c'è scritto jlc sopra hai capito a volte si rischia di arrivare a quei punti lì volere un jeje le cutre e qualsiasi va bene no è anonimo quello lì come designer addirittura è più bello più personale il legend diver secondo me poi ora il jeje le cutre come ho detto è meglio è meglio cioè se ti piace veramente di più il polaris prendi il polaris a occhi chiusi altrimenti se c'è un budget per spendere sul polaris prendi qualcos'altro di più elevato del longjin qualcos'altro però il dato di fatto è che io il legend diver ce l'ho e il polaris non mi ha convinto per comprarlo che poi il punto è quello lì quando arrivi lì per tirare fuori i soldini per comprarlo ti devi essere convinto al 100% se no non lo fai così comunque per il resto due rolex avevi e due uno alla mamma che non sa nemmeno come usarlo nel cassetto uno al babbo che non sa nemmeno come usarlo te l'ha dato con la corona aperta hai detto glielo devi insegnare si ma se se sto qua poi ci va in sott'acqua ci immerge le mani in un bidone nell'orto ci entra l'acqua dentro occhio un po' a regalare sti rolex alla gente che non sa usarlo piuttosto gli regali ti mette nel cassetto come fosse una reliquia e poi ti va in giro col baltic col calibro cinese che non ha niente di che sarà sicuramente cinese il calibro ma poi verrà non so testato regolato non è che si può fare una colpa per calibro cinese detta così alla cattiva non è tutta cacca quella che arriva dalla Cina va bene dai ragazzi mi sembra di aver detto tutto io vi ringrazio per essere arrivati fino qua per aver guardato il video e i video e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love mi sembra di aver guardato